Ciao a tutti ragazzi, io sono HN94 di VRGamers e questo è il trailer del nostro canale, il nostro perché siamo in 3. Oltre a me ci sono Mitchell94 e Ruby94, che oggi sono in vacanze e non ci sono per questo trailer. 3 minuti per un trailer sono pochi, quindi per vedere i nostri video quanto sono folli e spiegarvi un po' come facciamo, e vi faccio vedere direttamente le immagini. Uff e dice a tutti ragazzi, qui siamo VRGamers94, io sono Capitan Mitchell, lui è Canon94 e Ruby. Ma basta, 30 secondi, oh 30 secondi la canzone. E il McDonald, Ruby fammi sapere quant'è il... Da qua, di qua, da destra, dai. Fammi vedere quant'è la tua prensione per essere arrivato al McDonald. Cinquanti iscritti, cinquantici, cinquanti iscritti. Se ci vedrai anche i miei giochi, la faccio di Johnny che ti fia, è quello che ti donna proprio la Geralt. Se si vede... Non so se quanto si vedrà. Dead Rising 2. Don't serve la beta che è fighissimo, si gioca con il video troppo bene. Dead Rising 2, Rise Edge che mi si blocca per ogni tanto. E come si bloccava? e beh, è del Daederscrolls 5, NBA è figo, lo intende bene, solo che Skyrim è più figo, anzi Alan Wake è migliore. Abbiamo appena preso il nostro fratello Ruby94 come esempio, lui non è riuscito a fare il nostro video per il nostro canale, è grande disonore per noi. Questo gioco è Warcraft 3, un gioco passato agli annali dello strategico, è un gioco che mi ha appassionato moltissimo, è un gioco che è molto vecchio, sì come potete vedere dalla grafica è parecchio vecchio, ma qui già subito abbiamo il pezzo forte di questo gioco, Thrull. Anche se rimane qualche schifosissima gelatina in giro non fa niente, qua vedete lo colpisco ma non scende la vita perché più gelatine ci sono in giro più lui è forte, quindi bisogna eliminarle tutte con calma, bisogna aspettare che ci si avvicinino, siamo tutte indirizzate verso di noi. Cosa prevede però questa pack, questa, questa, questa pack comprende, per un milione di dollari ricordate, se entro, anche questo episodio di Skyrim è finito, da Wargamer 94, Capitan Mitchell, un fetiscio a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.